Il derby di Coppa Italia a Roma-Lazzo finisce 2-1. Questa sera di scena Milan-Bari è l'ultima partita degli ottavi di finale in programma a San Siro. Per i rossoneri la partita dell'esordio come titolare di Antonio Cassano e poi quello di Flavio Roma, portiere all'esordio ufficiale visto che finora ha disputato solo amichevoli o tornei estivi. Probabile anche il rientro di Andrea Pirlo. Per quanto riguarda il Bari che non ha molte chance, il modulo di ventura è in porta a Padelli dovrebbe concedere un turno di riposo a Guillet. In difesa Parisi e Rossi saranno le possibili alternative sugli esterni, mentre Massiello sarà dirottato al centro. A centrocampo lo spazio è per Donati, squalificato in campionato e per Pulsetti, finora usato col contagocce. In attacco Kutuzov farà coppia con Okaka. Favoriti per la vittoria sono i rossoneri, l'1 è dato a 1,30 da B-Win e gioco digitale e a 1,28 da Gamenet. In Leppari si gioca a 4,50 per B-Win e gioco digitale e a 5 per Gamenet. Il 2 è davvero improbabile per gli allibratori, 11 la quota di B-Win e gioco digitale e 9,50 quella di Gamenet. Il 2 è davvero per la vittoria, 11 la quota di Gamenet.